Il mio figlio è camminando qui, qui sono lì, il fradetto. Al momento ecco che arriva che accade la gente che i video... Francesco! Vedi qua! Abbiamo un matrimonio responsabile! Vedi su e raccontare qualcosa di che te che te ne è della storia che vai tutti a vedere e dar felicità a un brusso a sua sposa contenta e anche quello. Vedi su! Da canto. Oh Dio! Porzi! Francesco! Francesco! Il fuori di spelti con il compagno. Il fuori di spelti con il compagno. L'altra parte del giro, un grande figlio che era venuto a vedere. Francesco! Quando si vede il, si chiede, Francesco! 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 Fai un figlio! Un figlio di noi! Un figlio di noi, è venuto con una sede fatta! È così bella! È bellissima! Ha parecchio come un figlio! Vieni Francesco! Vieni con noi! Vieni! 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 che le stai faccio il vino, un miracolo meraviglioso di tutta la contenta, anche era proprio un matrimonio di mezzo, quando Gesù, Gesù è arrivato, che possa, questo, cioè anche era una zoia di tutti, e del colpo si viene a sapere che tutto il vino è improntato per il matrimonio, per lei di Naseto, tutto il vino di Naseto, che era la mamma, la sposa che pianeva, lo sposo che dava più amistere, ovvero il padre della sposa che è andato davanti a un muro, disperato per la sgraccia che appena è capitato, e in quel momento... At that moment, two guests are coming, there are either inviting guests who were just arriving a few minutes late, his nickname, Christ, and he was walking with his mother, a beautiful woman, named Madonna, there were idly inviting guests who were just arriving a few minutes, as soon as he stepped in through the door, the wine cooler walks up towards the Madonna and quickly patted the Madonna, there was such a situation, a desperation, with all the witnesses that don't need to be in the world, of our pride, but in white, his lucky pride, but in waters and disgrace and misfortune to run away from me, help us, help us! In quel momento ho questa idola Madonna che l'ha vinto, Jesus, che è il suo idro, sta povera alzetta che chiede di sperare, che è del vino che questa roba è stato tutta in alzetta, non si può fare un matrimonio, che la sposa bagnata, le fortunata, ma bagnata in perosene, non si può fare un matrimonio, d'accordo, Dio Jesus, potene Cristo e mettono, d'accordo, Dio Jesus, potene Cristo e mettono, d'accordo, Dio Jesus è coerente in piedi d'acqua ciara, vai! I was just a fright, a flashing packet, twelve, seven, eight packets that gone full of water, silence stepping through the hole, and Jesus steps forward towards the crowd and raises one hand and the other hand was cut down, and then he begins to pull his finger one by one and makes his knot, then he displays three fingers and the other two were scratching around the hand and begins to make some sign over the water. As I told you, I can't look at water. I was just stepping aside, but suddenly they would quiver into the bucket. The water changes color, becomes red. All sense of smoke. I dipped, I took a cup and I dipped it into this. Stop it, Jesus! What a wine, Jesus! Oh, a little fizzy, a little bit salty in the back, just flavor. It was wine, pot of wine, Jesus! Bravo, Jesus! Sei indivino! Bravo! Bravo! Bravo!